Buongiorno, Giovanni Guardalaska e Sport, non è facile analizzare questa partita perché sicuramente non si può dire che avete giocato male, avete creato tantissimo, forse, non so se siete d'accordo rispetto ad altre volte, un pizzico meno di compattezza, avete concesso qualche contropiede di troppo anche nel primo tempo? Sì, abbiamo concesso nel primo tempo, siamo andati in vantaggio dove lì si può attaccare ancora con un po' più di equilibrio, attaccare meglio, andando in vantaggio a cercare di chiudere la partita non l'abbiamo fatto e alla fine con questo rigore sono arrivati al pareggio, la espulsione poi dopo ancora un po' più difficile. Abbiamo fatto un po' tutto noi oggi pomeriggio perché è vero che abbiamo giocato discretamente bene, con qualità, sulla tecnica abbiamo fatto bene ma serve quando siamo efficaci, siamo concreti e andiamo in attacco per chiudere la partita, non l'abbiamo fatto, l'abbiamo lasciata aperta e il Cagliari è venuto fuori e ho ottenuto questo pareggio. È solo una coincidenza che questo calo di attenzione che abbiamo visto a volte arriva dopo una partita comunque in cui si sono sprecate tante energie anche dal punto di vista mentale? Niente coincidenza, per me è una cosa che sicuramente dobbiamo migliorare perché nel futuro ci saranno tanti momenti così e dobbiamo fare sicuramente meglio. L'ultima cosa che lei chiede è come valuta il secondo giallo con 6A o se ha rivisto l'immagine? Non ho rivisto l'immagine, se è simulazione è giusto che siamo uniti, se è simulazione è giusto che siamo uniti, io non ho visto ancora l'immagine, lo vedrò dopo, se è simulazione è giusto che siamo uniti. È una cosa che stiamo parlando da tanto tempo, anche nelle riunioni con Rocchi, penso che le simulazioni non fanno bene al gioco. È chiaro che oggi è stata, ripeto devo vedere ma mi fido di quello che ha visto l'arbitro, perché anche nelle simulazioni non devono avere interpretazione, o c'è simulazione o non c'è simulazione, però da adesso si apre un precedente dove se si fa una volta si deve fare sempre, non ogni tanto e quando conviene, che non è il caso oggi perché oggi non c'è niente di convenienze, non c'è niente di particolare e l'arbitro ha visto una simulazione, devo vedere anch'io però io mi fido di quello che ha visto l'arbitro e se è simulazione è amministrazione. Però da adesso si fa sempre, non ogni tanto sì e ogni tanto no, perché guadagneremo tutti con questa cosa qua. Salve mister, Giorgio Musso di Crasciomercato.it, le chiedo quanto ha pesato l'occasione fallita da Vlaovic e sull'1-0, grazie. È una situazione importante della partita ma come tante altre situazioni che potevamo fare meglio per arrivare meglio in attacco, per chiudere la partita, non siamo stati capaci di fare oggi pomeriggio e alla fine di passare a chiudere una partita dove metterla dalla nostra parte in un modo più tranquillo, ci siamo messi noi in difficoltà che alla fine arrivano questo rigore e la espulsione alla fine è diventata molto più difficile. Buonasera mister Marco Venditti, signora Mia Calcio News, mi piace molto la sua determinazione, cioè nel senso che sono cose che possono accadere queste qui. Il pareggio di oggi è una cosa che può accadere, ci sta, la Juventus sta giocando bene e sono incidenti di percorso, magari ce ne saranno anche altri in futuro, speriamo di no, pochi, però bisogna saperli gestire, insomma, a livello mentale. Ripeto, mi è piaciuto molto come l'ha interpretato lei. Grazie. Grazie. Passiamo alla prossima. Patania, Corriere dello Sport, buon pomeriggio mister, le volevo chiedere, ma alla fine mi è sembrato di vedere che si è andato a parlare con l'arbitro, le ha chiesto, appunto si fida della valutazione dell'arbitro, avete parlato dell'episodio di Consesà? Quello che sto parlando con voi, tranquillamente, con tutta la tranquillità del mondo, con grande rispetto, reciproco, ho detto la stessa cosa. Se lui, io da lontano è più difficile da vedere, lui era più vicino, ha visto simulazione e ripeto, senza interpretare se sì o no, non c'è interpretazione. O c'è simulazione o non c'è simulazione. Lui ha visto simulazione e giustamente ha munito il giocatore. Il mio giocatore è stato munito giustamente perché la simulazione non va fatta. È chiaro che dopo, le ho detto, adesso si deve fare sempre, non ogni tanto sì, ogni tanto no, perché sennò diventa un problema. Perché il problema è che fa male al nostro calcio. Il grande problema fa male al nostro calcio. Consesà è un ragazzo fantastico, è un ragazzo onesto, è un ragazzo che si allena e con un atteggiamento incredibile. Gli serve anche come una situazione per migliorare, perché se lui ha cercato di simulare, giustamente è fallo e rosso. O giallo e rosso. Però ripeto, per fare bene a questo gioco, tante volte già che vengo parlando, non è da oggi, tante volte già. Anche con Rocchi in riunione, perché facciamo queste riunioni per queste cose. Va visto bene, perché da adesso si deve fare sempre. Adesso non si può andare a metà. Lo faccio una volta, poi magari dopo due mesi facciamo un'altra riunione e cambiamo ancora, accettare. No, non va accettato. La simulazione va punita. E oggi lascio il margine, perché voglio vedere anche io l'immagine. Non l'ha vista, sono visto da lontano, ma mi fido da quello che ha visto l'arbitro. Ha visto simulazione e è giusto ammonire il giocatore. Gli serve anche il consenso per migliorare. Buongiorno, mister Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Le volevo chiedere, nelle ultime due partite avete subito due rigori e in entrambi i casi ci è andato di mezzo Douglas Lewis, che diciamo che dei grandi acquisti estivi è stato quello che ha giocato di meno in questo inizio di campionato. È solo sfortuna quella di Douglas Lewis o è anche una mancanza di fiducia? Cioè sente poca fiducia in campo ogni volta che negli episodi negativi ci va di mezzo? Prima cosa non credo nella sfortuna. Poi oggi, ripeto, è stata una partita dove abbiamo iniziato ben perché abbiamo creato la situazione di gol, abbiamo andato in vantaggio con un rigore. Abbiamo creato anche per chiudere, ma dovevamo fare meglio durante tutta la partita per meritare di più, arrivare a un risultato positivo per noi. Non è stato il caso, adesso non è il caso di puntare su un giocatore o l'altro. Vinciamo insieme, pareggiamo insieme e perdiamo insieme. Non sono il tipo di persona che vinco io e perdono gli altri. No, abbiamo pareggiato insieme. È un po' quello che ho detto anche in conferenza prima della partita. È il momento di tutti noi dare un qualcosa in più. Ha tutta la mia fiducia a Douglas Lewis, come tutti gli altri giocatori. Ultima domanda, che dobbiamo lasciare spazio a mister Nicola. Antonio Polino, Radio Bianconera. Mister, le chiedo se è un pareggio che la fa un po' inquietare, arrabbiare. Cioè, c'è qualche partita in cui magari le dà più fastidio di altre? Sì, ci sono delle partite che danno più fastidio di altre. E oggi è una di quelle. Sì, mi fa arrabbiare sicuramente. Inquietare no, ma arrabbiare è sicuro. Arrabbiare è sicuro perché sono convinto che possiamo fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi pomeriggio per poter meritare ancora di più la vittoria. Di sicuro non l'abbiamo fatto perché il pareggio è arrivato. e adesso è accetarlo, digerire questo pareggio e continuare in avanti. Grazie.